Ci viene a trovare la Virtus Bologna che è uno dei club storici del nostro campionato quindi sicuramente deve rappresentare per noi un orgoglio di giocare in una società così blasonata, storica che magari adesso non ha più le squadre di una volta però rappresenta senz'altro la storia nel panorama cestistico nazionale è una squadra che sta giocando molto bene, che senza due punti di penalizzazione avrebbe fatto le finaletti di Coppa Italia ha messo insieme una serie di prestazioni molto convincenti dimostrando di avere fatto quadrato e di avere un'identità ben precisa però indubbiamente una squadra che presenta una palla a canestro diversa dagli altri una squadra molto organizzata con americani di talento che però stanno all'interno di un sistema quindi una partita che noi non possiamo in alcun modo lasciarci scappare ma che allo stesso tempo dovremo affrontare con grande voglia, grande determinazione indipendentemente dall'eventuale spero voglia di riscatto per la brutta partita che abbiamo fatto a Pistoia proprio per confermare il fatto che qua in casa nostra è il fortino nel quale noi stiamo costruendo la nostra salvezza e deve restare un punto fermo nei nostri piani e nel nostro progredire verso il nostro obiettivo grazie a tutti